20esima edizione per Pedalando per la città, la ciclo pedalata che porterà i salernitani a riappropriarsi delle strade del capologo almeno per una giornata. Domenica, infatti, le strade principali di Salerno saranno chiusi al traffico dal Teatro Verdi a Piazza Monsignor Grasso a Mercatello per un totale di 12 km. Raduno alle 9, partenza prevista alle 10.30 da Piazza Vittorio Veneto in direzione Teatro Verdi e da lì verso Mercatello in ritorno. I partecipanti dovranno poi raggiungere nuovamente Piazza della Concordia e quindi l'arrivo nei pressi della stazione ferroviaria di Salerno. Un'iniziativa importante che viene portata avanti ormai da tempo dall'Associazione degli Amici del Sacro Cuore. Quest'anno abbiamo anche inteso inserire l'iniziativa all'interno della Domenica Ecologica. Ci saranno degli stand allestiti su Lungomare Trieste all'altezza delle poste centrali e quindi sarà una giornata dedicata all'ambiente, allo sport, alla salute soprattutto perché non dimentichiamo che la bicicletta fa bene anche alla salute. Come ha detto l'assessore lo sport non è solo agonismo, è anche benessere e anche partecipazione. Questi sport cosiddetti minori più delle volte sono i migliori, non i minori. La bicicletta è uno sport molto praticato, molto amato e gestito bene può dare gran soddisfazione sia a livello agonistico ci vuole che anche a livello personale per la propria salute e per il proprio benessere. Diverse le novità che saranno introdotte quest'anno con l'iniziativa inserita nelle giornate ecologiche indette dal Comune. Pedalando per la città avrà un proseguo il sabato seguente con un intero pomeriggio dedicato ai più piccoli nell'area di soccorso amico a Torri Angellara, bambini e biciclette dove sarà anche piantumato un albero simbolo della salvaguardia dell'ambiente. Un grande spettacolo sicuramente e poi un bel risultato perché chiudere la città al traffico e far transitare ragazzini in bicicletta è una cosa sicuramente bella ma quello che è essenziale è che abbiamo creato un segmento proprio rivolto ai bambini dai 5 ai 12 anni e cercheremo di farli divertire all'interno del parco di soccorso amico che quest'anno non vedrà la sosta che solitamente facevamo però abbiamo inteso proprio per ringraziare il dottore Satriano dedicare una mezzogiornata alle biciclette e ai bambini proprio nel parco del soccorso amico.